Ma questi riempiti quanti i reattori? Ah, ma c'è un altro di piedi! Ma c'è un altro di piedi! Cioè, va la pena prima eliminare... Prima i reattori perché, diciamo, sono dei Jolly che non ti sabilitano della tua natura. Però, quando stai cominciando a riempirli, si è ricercato di usare i circuiti. Per riparare i circuiti, o in generale, come per i dati, o rimargi. In che caso si pulisce? Oppure i circuiti, se riesci, per esempio, a completare il circuito, quello si pulisce. Per cui si va ovest, 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 est, non è possibile. Osea, nord, 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 est, si pulisce tutti i dati dei circuiti. Ti amo! Vai qua! Vai! Te già ti ricordi un po', qui, non so, siamo presi i vari circuiti. Sì, io ci sono. Siamo pronti? Eh, devo scelto la posizione iniziale. Ecco. Ok. Tre, due, uno, andiamo. Rotta sud. Ok, ok. Rotta nord. Rotta sud. Ma quanto animalete non! はい! Rotta est. Ok. Ok. Rotta sud. Ok. Rotta… Rotta est. No abbiamo un dojo, ok. Rotta sud. E adesso ne vediamo su. Oh qua. Ok. Ok. Rota est, ovest, rotta sud. Ok, abbiamo tre carici, carichi, ma abbiamo bisogno di che vada a nord. Ok, leggiamo il drone. No, non possiamo andare a nord. Andate un altro già, che non si può andare a nord. Ok, rotta ovest. Ok, rotta ovest. Ok... Okay, rotta nord. Ok, rotta nord. Ok, rotta nord. Ok, rotta nord. Ok, utilità. Ok, pulito, solo. Stop! io sono messo ok prima siamo si facciamo facciamo drone. Siete nel settore 5? Sì, sono lì. Ok, se vuoi, se pubblica. Quattro in distanza. Vabbè, vai, vai. Rotta Nord. Stop. Perché totta Nord? Eh, quando avete tolto stop. No, non abbiamo sentito. Togliamolo, togliamolo, togliamolo. Radio-l'amore. Radio-l'amore. Sì. Ok. Quindi, possiamo tirare una lecca di... Gacciamo un torpedo blu. Sicuro, vieni. Un... F... 12. Boom! Quanto si vede che non ci sia la gule? Quanto si vede che non ci sia la gule? Quattro, distanze di quattro, eh. Ma che non è bruciata. Senti nei coglioni. Senti nei coglioni. Senti nei coglioni. Guarda. Inerfetto. Unice. Unice. Ehm. Ok. È... Però... Uno? No. No, questo è il suo di nostri danni. Ah, scusa. Fatti. Sì, sì, sì. Quando loro si sparano... Ok, fai su qua. Ok. Sì, possiamo fare silenzione. Pronta a sud. Che canzi? ok per lezionati ora aspetta noi abbiamo detto due volte sud dopo basta che in questo momento si riferisce radio hanno fatto il silenzio noi cominciamo a lanciare la sinistra non ho fatto per me tutto il tempo che voglio l'esercito spero non è che loro sanno dopo la prossima è così posto non si può non si può non si può non si può tanto mi sono stop si si scopo per noi aspetta aspetta rotta a sud rotta a est rotta lanciano un drone allora loro potrebbero essere soltati ehi ma scusa no il drone si accassa si chiama drone ci dicevo parli a metà perché non è facile ma è da tutti loro ma è da tutti loro a parte questo non guarda 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 la 5 5 no possiamo ripartire? si rotta rotta sud est ok rotta sud stop stop lanciamo dove sono loro? non lo so lanciamo un drone siete nell'area 8 non lo so ok rotta sud rotta nord est ok rotta nord ok rotta ovest ok non vale questo ovest ok avete detto ovest est 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 ok allora allora possiamo ottenere il carico ok vabbè la felicità aspetta lui l'ha detto aspettate guardiamo un'istante 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 ecco qua non lo so ok 1 2 3 ok sparo un c1 in i11 colpito in pieno colpito in pieno giocato fatti nooo 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 sparo un torpedo in h13 colpito in pieno BOOM eh ci siamo piaci non 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 est sei no 3 2 1 via rotta est rotta rotta ecco sotto nord ok hai fatto est sul l'uomo ma non si è ammazzare su un'azienda ora 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 non ho visto se lo sto per primo non vale l'ultimo est quella prima se non lo sentite male Siamo incastrati in un'altra volta tutta l'anno. Ehm, mica? Ehm, mica? No, scusate. No, scusate. No, scusate. Facciamo finire che l'ultima era un'ordine. No, 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 no. No, scusate. No, scusate, scusate. No, scusate. No, no, scusate. No, no, scusate. Silenzio radio, casso. Siamo in fila. Se lo so. Eh, no, non lo so. E' anche questo. Andiamo a fare anche questo. Ah, sì. Io prendo una minata e devo fare... Eh, sì, ma... C'è, lo vedo qua. C'è, lo vedo qua. C'è, lo vedo qua. Ah, lo vedo qua. Ah, lo vedo qua. Come sono presi? Uno. Per i due. Beh, un nord e un ovest. Sì, no, no. Un nord, est, un ovest. No, no, no. Eh, allora questo... Eh, se no... 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 Eh, no, non lo so. Eh, no, non lo so. Eh, no, non lo so. Bisogna prendere su parte, perché un po'... Eh, se no... Eh, se no... Eh, se no... Eh, se no... C'è un po'... Ok? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Quindi c'è il nord e l'ultimo nord. Un nord. Questo non è un nord nord. Ok. 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 Ok, ok. C'è il nord dell'ultima nord. Io lo faccio una volta, no? Sì, anch'io. Oppure per i fatti. No, però no. Dove che le sparo? Un posto, sì. No, scusami. No, no, sì, sì. Sparo una mina. E basta. No, l'ho sentito non è arrivare. La mina com'è che funziona? Allora, lui si ha scherzato una mina. E la traccia dove? Esatto, la U praticamente. Tutte le versioni aria, senti, ma non dietro di te. Ok. Cioè, il disegno sono questo del capitano. Intorno, non sono dato posizione e non dire. Non so. Non so se lo puntano per i fatti. Siamo con i stop o siamo andati? Siamo con i stop. No, se il vostro stop, sì. No, ma usiamo... Nel nostro stop, usiamo anche il sonar. Sì. Quindi due cose. Non è anche una sensazione perché è tutto bruttato. Ma è una cosa. Ma è una cosa. È un po' questo. Questo è un po' questo. Questo si è un po' questo locale. Questo qua è un mio avviso che dice che facciamo il carico se non necessario. Dovrezze che riesca a fare tra la vostra, ma è un casino di mosse. Sì. Potremmo studiare questo e questo. non è un po' questo. Quindi adesso fai lì le mosse per voi. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Un aspetto. No. Una... E poi vai ovvest. Tutte le altre. No, no. No, no. No, no. C'è la verità da un nuovo settore. Sei Corona K Una veda e una vana quasi Trovate Segnati Questa Cos'è? È la mia Pronti? 3, 2, 1 Via Pronta Nord Pronta West Pronta West Pronta West Pronta Sud Pronta Sud Pronta Sud Sì Ok Pronta Ovest Pronta Ovest Pronta Ovest Pronta Ovest Però possiamo farla unissimo Perciò che non cresce Perciò che non cresce Pronta 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 3 sud e prima del sud metti i sistemi 3 sud ma di un terzo non ha subito prima di quelli cosa c'è? mi perdono un po' ovest quanti sud puoi fare? ovest? non dite di dove siamo ci siamo bloccati aspetta, non lo usiamo dai, doniamo la mina doniamo la mina ne torniamo la mina in vita coordinata in otto aspetta, è sbagliata niente mina cazzo, oddio si perchè vabbè eh lo so ma che si muove ahahahahah tiriamo la sonacra tiriamo la siluro siluro possiamo tirare il siluro si 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 c e poi okay No! E' un nuovo! Ok! Rolta? Devi stare? No, non torre! Rolta? Ok. Se non posso girare est, e riemergiamo più. Riemergiamo? No, riemergiamo! Ok. Noi riemergiamo nel settore 2. Sì, 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 sì. Speriamo in tutto il mondo. Speriamo in tutto il mondo. Scusa, mi ha ragione, che sciocca. Speriamo in tutto il mondo. 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 Speriamo in K-5. Speriamo in un 2-3-5. 8-5? Speriamo in calculate di senso. Administrazione strengths. Welcome to a K-56. No, vabbè, il 3 passo è il 4, esatto? Voi cosa avete usato? Stanno cominciando? Ragazzi, ci sono rilassati. All'ultimo punto. Siamo, ciao. Dai, scusate. Siamo, 1,5. Intanto, però, fuggiamo un po' dietro alle morte. Vai, vai. Vai, stop. Vai, spara. Siete in K7. Siete in K7. Siete in K7. BOOM! Stai finito. Matteo che scaveno. Andate a f***o. No, non ti dite a 6. No, non ti dite a 6. No, non ti dite a 6. No, non ti dite a 6, non ti dite a 5, non ti dite a 7 anzi. Non ti dite a 6, 50 insieme? Siete in K17. No, no tra in K17. Siete in K17. No, non ti dite a 7, ma è un periodo. Luca? No. Quando io mi就 per社會? Ti deve vedere, dove v надо? È di Sittore. spettacolo spettacolo che ansia e quando ci prende un po' la mano